Sono Luca Lippi del ristorante del Bagno e il Sole a Via Reggio. Ti è piaciuto questa edizione 2018 del Menomastery? Sì, molto. Ho imparato molte cose, alcune le avevo già lette, però ho approfondito e direi che torno a casa con tante buone intenzioni. C'è qualcosa che ti ha colpito in particolare, ad esempio? Il discorso dell'identità, di capire bene quello che si vuol fare e come comunicarlo ai clienti. Consiglieresti questo corso a qualcuno dei tuoi concorrenti o a qualcuno dei tuoi colleghi ristoratori? No, così non vengono e io faccio piazza pulita a Via Reggio. No, comunque sì, lo consiglio. Credo che anche qualche mio collaboratore verrà costretto a partecipare alle prossime edizioni. Posso chiederti come mai? No, no, sto scherzando. Io ho collaboratori bravissimi, ai quali trasmetterò, anzi appena torno a casa, ecco quello sì, li costringo a leggere tutti i miei appunti.